Allora cari amici prendiamo in mano il nostro libro di catechesi, la tentazione, stiamo facendo gli ultimi due capitoli, capitolo decimo, capitolo undecimo, dunque abbiamo terminato le tentazioni diciamo così, non so come dire, più presenti nella vita quotidiana del cristiano, anche se naturalmente poi le tentazioni sono molto personalizzate, quindi ognuno ha le sue, però ci sono alcune tentazioni che sono particolarmente, sono direi generalizzate, sono affetti tutti gli uomini e abbiamo visto solo le tentazioni della carne, le tentazioni della ricchezza, la tentazione dell'orgoglio, la tentazione della violenza, la tentazione della menzogna, sono tentazioni che Satana elabora sulle nostre fami, fami di mondo che si esprimono nei sette vizi capitali, la superbe, l'avarizia, l'ursuria, l'ira, la gola, l'invidia, l'acidia oppure le tre concupiscenze di cui parla San Giovanni, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita. Adesso cari amici, negli ultimi due capitoli del nostro libro sulla tentazione prendiamo in esame due particolari tentazioni. Primo, capitolo decimo, le tentazioni di Cristo e della Chiesa che sono specifiche, cioè Cristo e la Chiesa, Cristo ha avuto e la Chiesa ha e avrà. Fino alla fine della storia è un particolare tipo di tentazioni e vediamo quali sono. C'è questa intima unione fra Cristo e la Chiesa perché come sapete la Chiesa pur nella sua, diciamo, limite, che è il limite umano, è comunque il prolungamento di Cristo e dello Spirito Santo nella storia umana. E poi vedremo al capitolo 11, quello conclusivo, la tentazione del mondo, quella tentazione che ci ha messo in evidenza nella Genesi, al capitolo terzo, la tentazione dei progenitori e che è presente come tentazione permanente nel corso della storia e che è presente soprattutto oggi, cioè la tentazione del mondo di fare a meno di Dio, la tentazione dell'uomo di mettere se stesso al posto di Dio. Allora oggi apriamo il capitolo decimo, cari amici, e vediamo le tentazioni di Gesù e le tentazioni della Chiesa. Vi dicevo, vi dicevo, cari amici, che questa analogia o se vogliamo questa continuità tra Cristo e la Chiesa è teologicamente fondata in quanto appunto la Chiesa è il prolungamento di Cristo nella storia, come diceva padre Dio Lubac. E nella Chiesa è Cristo presente, presente Cristo, presente lui col suo spirito, per condurre la Chiesa che certamente è fatta da uomini, ma che comunque i quali hanno le loro tentazioni personali. Però la Chiesa stessa come istituzione voluta da Cristo e quindi come istituzione sostituzione soprannaturale ha specifiche tentazioni che sono, diciamo così, analoche a quelle che ha avuto Gesù. Perché anche Gesù è stato tentato, cari amici. Il Vangelo ce lo mette in evidenza ed è stato tentato non soltanto con quelle tre tentazioni di cui ci pregono i Vangeli, no? Di che questi petti diventino pane, poi viene portato sul pinacolo del Tempio, gettati giù perché gli angeli ti sorreggeranno e poi Satana lo porta su un alto monte, gli mostra tutti i reni della terra e gli dici e te li darò se tu mi adorerai. Sono tre tentazioni tipiche, ma che non esauriscono le tentazioni che Satana ha atteso a Cristo. tanto è vero che Luca, fra i tre evangelisti sinottici, è quello che mette in evidenza e al termine delle tre tentazioni che Satana, dopo aver cercato ogni tipo di tentazione, lo lasciò per avvicinarsi in un secondo momento. Poi certamente c'è il Gezzemani dove la tentazione non è più quella della seduzione, ma è quella dello scoraggiamento. Quindi Cristo è stato tentato per tutto il tempo della sua vita dal diavolo. Nel momento in cui è risuonata pubblicamente la consacrazione del Padre, cioè Cristo è stato consacrato dal Padre, unito dallo Spirito Santo nel momento del suo concepimento. Nel momento del suo concepimento la santa umanità di Cristo unita alla divinità, alla persona del Verbo è stata ricolmata del Spirito Santo. Quindi diciamo così, è nel gremo della Vergine Maria che il Verbo si è fatto carne, ma la proclamazione davanti al mondo che appunto Gesù è il figlio prediletto nel quale il Padre si compiace, questa proclamazione è fatta dal Padre con una voce che rimbomba laddove Giovanni stava battezzando e quindi è una consacrazione pubblica, è un riconoscimento pubblico, è una proclamazione pubblica della divinità di Cristo, ma subito dopo entra in campo il tentatore, il quale sa benissimo che ha a che fare con il Messia, il figlio di Dio e quindi a lui rivolge tentazioni particolari che noi potremmo sintetizzare in un'affermazione molto precisa, cioè tutte le tentazioni di Satana verso Cristo hanno come scopo di farlo deviare dalla via che il Padre gli ha segnato, cioè la via messianica della sofferenza, della croce, del sacrificio, dell'annientamento di sé per salvare il mondo. Infatti anche l'ultima tentazione, quella del Gesemani, ha come scopo questo, di non far liberi il calice che il Padre gli ha preparato. Quindi Cristo come uomo aveva un'intelligenza, una sua volontà, come dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, Gesù con la sua intelligenza umana aveva una perfetta comprensione dei misteri di Dio e della volontà del Padre. Quindi Gesù con la sua volontà umana conosceva perfettamente la volontà del Padre riguardo alla via della croce, riguardo al calice che doveva bere. E Gesù, e Satana vuole deviare, vuole far sì che Gesù con la sua volontà umana non accetti non accetti la via del messianismo doloroso, del messianismo crocifisso e non accetti la via appunto della redenzione del mondo attraverso la sofferenza. E fino all'ultimo Satana cercherà di sviare, sviare come dice la Madonna, no? Satana vuole deviare dalla via di Dio. Così ha fatto con Gesù, voleva deviarlo dalla via del Padre, ma non ci è riuscito, non ci è riuscito perché la volontà umana di Cristo è totalmente unita alla volontà del Padre e quindi Gesù con la sua intelligenza umana conosce perfettamente il piano sacrifico del Padre e con la sua volontà umana lo abbraccia fino in fondo e in questo modo ci ha credento. Qual è, cari amici, la differenza fra le tentazioni di Cristo e quella della Chiesa? Beh, la differenza non sta tanto nel tipo di tentazioni perché, come vedremo nelle catechesi successive, Satana rivolgerà alla Chiesa nel corso della sua storia più o meno le medesime tentazioni che rivolge a Cristo, cioè far deviare la Chiesa dalla via della sofferenza, dalla via del sacrificio, dalla via della croce, dalla via della testimonianza fino al martirio, della sequela di Cristo crocifisso, della totale abbandono fiducioso alla provvidenza del Padre, quindi, però queste sono ancora le tentazioni che Satana rinnova con questa differenza, cari amici, che Cristo le superò, diciamo, facilmente. Era una fortezza inespugnabile la Chiesa fatta da uomini, tra l'altro indeboliti dal peccato originale, certamente sostenuta dalla grazia la Chiesa deve combattere per non farsi soppiantare dalle tentazioni di Satana e certamente la promessa di Gesù che fa a Pietro, tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le porti dell'inferno non prevarranno conto di essa riguarda anche la grazia speciale che Cristo dà alla Chiesa di non cedere alle tentazioni a cui è sottoposta. Adesso, cari amici, siamo a pagina 173, vediamo prima di tutto le tentazioni di Gesù, poi nelle catechesi successive le tentazioni a cui è sottoposta la Chiesa anche oggi, ovviamente, cari amici, nel corso della sua storia, così impariamo veramente anche a dare uno sguardo soprannaturale alla Chiesa, perché anche i passaggi, attuali della Chiesa non lo si comprende, cari amici, se non nella dimensione soprannaturale, mentre valutazioni umane potrebbero impedire di capire esattamente cosa sta avvenendo, cioè la Chiesa cosa sta avvenendo? La Chiesa è sottoposta a due, al dupli, all'atenalia, Satana dice con un'atenalia, l'atenalia ha due morsi, il primo morso è la persecuzione, l'altro morso è la seduzione, se non si capisce che Satana sta sottoponendo la Chiesa a un attacco spietato di seduzione e di persecuzione non si capisce quello che sta avvenendo, per cui se non si capisce questo non si capisce neanche i rimedi, ovvio che se siamo in un momento in cui Satana con la duplice tenalia, il duplice corno dello scorpione, la tenalia dello scorpione della quale inietta veleno, se Satana solo scorpione infernale cerca di attagliare la Chiesa con la morsa della persecuzione esterna e della seduzione interna, se non capiamo questo non capiamo che la vera difesa è la preghiera, è il sacrificio, è la conversione, è la perseveranza, è il combattimento spirituale e non ritocchi di facciata che lasciano l'uomo deboli come che era prima. Allora siamo a pagina 173, cari amici vediamo allora le tentazioni di Gesù. Pagina 173 del mio libro La tentazione. Le tentazioni sono innumerevoli e sarebbe impossibile farne un compendio, ognuna di esse è accuratamente personalizzata tanto che il medesimo genere di tentazione è vissuto diversamente da un soggetto all'altro. Satana tende le sue reti a partire da situazioni concrete che studiano i minimi particolari, cioè è come un cacciatore che va a caccia, quindi studi i particolari, l'albero dove mettersi, c'è spuglio, tutto. Conosce a fondo la natura umana e le sue fami che col passare del tempo non mutano nella sostanza. Tuttavia le fami dell'uomo sono sempre quelle, vizi capitali sono sempre quelli. Non muta la sostanza, muta la forma. Tuttavia, benché i tempi cambino, Satana sa adattarsi alle circostanze, alla mentalità e alle mode che cambiano. Oltre ad alcune tentazioni tipiche della vita cristiana, ce ne sono altre non meno importanti che riguardano la Chiesa, non tanto nei suoi singoli membri, quanto in se stessa, come in realtà che Cristo ha fondato perché continuasse la sua missione redentrice. Nessuno si deve scandalizzare se Dio permette che la Chiesa sia tentata. L'odio del drago è tale che essere l'obiettivo primario da attaccare e distruggere. È necessario che la Chiesa sia consapevole delle specifiche tentazioni che la insidiano per poter discerrere e combattere. Ho sentito qualche volta che anche il Papa parla delle tentazioni della Chiesa, ne ha parlato Paolo VI ampiamente, anche Giovanni Paolo II, e la consapevolezza dell'azione di Satana, del fumo di Satana nel Tempio di Dio. Anche per la Chiesa, come per ogni cristiana, d'altra parte anche Benevento XVI, Fatima, ha parlato della persecuzione all'interno della Chiesa, che è una persecuzione, in realtà è una forma di seduzione. Anche per la Chiesa, come per ogni cristiano, dunque sono più che mai necessaria la vigilanza per non cadere in tentazione. Ovvio, amici, quando siamo sottoposti a tentazione, vale per noi quello che Cristo ha detto per i Suoi Apostoli, vigliate e pregate per non cadere in tentazione. No, Gesù non ha mica detto agli Apostoli, vi tolgo il celibato così non cadrete in tentazione. No, ha detto vigliate e pregate per non cadere in tentazione. La Chiesa è il prolungamento di Gesù Cristo su questa terra. Il figlio di Dio l'ha fondata su Pietro e sul collegio apostolico, ben sapendo quale sia la fragilità umana anche dopo il dono della grazia. Sa anche nel collegio apostolico ci sono tantissimi santi, ci sono uomini normali e ci sono uomini anche mediocri. Attraverso la Chiesa Gesù opera la redenzione dell'umanità lungo il corso del tempo fino al giorno della sua seconda venuta. Quindi la Chiesa è sottoposta alle medesime tentazioni di Cristo perché ne è il prolungamento nel corso della storia. Quindi per conoscere le tentazioni tipiche della Chiesa è necessario meditare quelle a cui Cristo stesso è stato sottoposto. Il nuovo Adamo Cristo, come quello antico, ha dovuto affrontare la tentazione. Si tratta di due tentazioni radicalmente diverse perché diversi erano i soggetti che dovevano affrontarle, cioè Adamo nel paradiso terrestre e Cristo nel deserto. Il vecchio e il nuovo Adamo hanno affrontato tentazioni diverse. Adamo, elevato in grazia e ricoperto di doni soprannaturali straordinari, è stato tentato nel suo torbido desiderio di essere come Dio, emancipandosi dal suo creatore. Gesù è il Messia Redentore, il figlio di Dio nel quale il Padre si compiace. Satana ha compreso meglio di tutti gli altri la testimonianza di Giovanni Battista e l'evento del battesimo di Gesù presso il fiume Giordano, dove tutti sentirono le parole del cielo. Questo è il mio figlio di letto del quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Quindi le tentazioni che prepara contro Gesù, con impressionante malizia, sono volte a distogliere Gesù dalla sua missione e a farlo deragliare della via che il Padre gli ha assegnato. Questo medesimo tipo di tentazioni satana le riserva alla Chiesa, cercando con ogni mezzo di ottenere nei suoi confronti con la vittoria che invanno ha sperato di conseguire nel deserto contro il Messia. Ovvio che la Chiesa non cadrà mai, per intero, perché è costruita sulla roccia di Pietro, però certamente vacilla e ci sono anche i membri deboli che soccombono. Possiamo senz'altro affermare, d'altra parte, anche Cristo ha resistito, gli apostoli sono caduti. Le Gezzemani, di fronte alla tentazione dello scoraggiamento, sono caduti. Possiamo senz'altro affermare che tutta la vita pubblica di Gesù è stata una tentazione. L'attacco di Satana all'inizio della sua missione è stato solo il preambolo di un assalto continuo che si è manifestato con ogni genere di tentazione, come afferma l'Evangelista Luca al capitolo quarto, versetto tredici. La presenza del demonio non solo come persecutore, ma anche e soprattutto come seduttore attraversa l'intero Vangelo. Cioè la presenza del demonio attraversa l'intero Vangelo. Non si capisce perché ci sono anche dei ministri di Dio che sottovalutano o addirittura negano questo, ma basta leggere il Vangelo. La presenza del demonio come persecutore, come seduttore, lo attraversa tutto intero. Gesù è venuto per distruggere il potere del maligno e l'impero delle tenebre doveva reagire con tutta la sua potenza e la sua astuzia. Infatti in Palio c'era e c'è il dominio sul genere umano. Cioè Satana e Cristo si contendono il dominio sul genere umano. È vero che Cristo ha vinto il demonio, ma poi la battaglia si sposta in ogni cuore. Cioè in ogni cuore Cristo e Satana si contendono l'uomo, dipende da noi da che parte andare. Quindi in Palio c'è il dominio sul genere umano. Satana è sceso in campo subito all'inizio della vita pubblica di Gesù, contrastandolo fino alla sua morte in croce. Cioè non ha aspettato neanche un minuto. Appena ha sentito la proclamazione dal cielo, Satana è entrato in azione. Il figlio di Dio ha infranto il potere delle tenebre, ma la lotta continua nella vita della Chiesa. Perché uso la parola infranto? Infranto perché significa una sconfitta del potere delle tenebre che non è quella finale, perché certamente il potere delle tenebre è già sconfitto, ma ha il permesso di agire fino a quando verrà relegato allo stagno di fuoco e di zolfo, come dice l'Apocalisse nel capitolo 19-20, e lì vi resterà per tutti i secoli dei secoli. Gesù concede alla Chiesa la grazia di combattere e di vincere, dando così anch'essa il suo contributo all'opera della redenzione. Nella sostanza le tentazioni messianiche nei confronti di Gesù si ripropongono lungo tutto il pellegrinaggio della Chiesa fino all'ultimo giorno. Quindi la Chiesa in quanto tale, Geremici, è sottoposta come Gesù alle tre grandi tentazioni, oltre che alle persecuzioni. Perché le tre grandi tentazioni di Gesù sono le tre grandi seduzioni. È sottoposta anche la tentazione dello scoraggiamento e questo perché Cristo vuole che la Chiesa riviva la sua vita. Già i padri della Chiesa hanno fatto questo accostamento tra le tentazioni del Cristo e quelle della Chiesa. Come Satana cioè ha cercato di sviare il Messia dal compimento della sua missione, così opera per insidiare la Chiesa. Cambiano le circostanze ma non la sostanza. Ma come abbiamo detto tante volte cari amici, il primo passo per uscire vincitori dalla tentazione è quella di scoprirla. Anche quando si discute sul concilio. Il concilio è stato un grande evento, un evento dello Spirito Santo. D'altra parte il concilio si è concretizzato nei documenti conciliari che sono un monumento di dottrina di sabienza e di fede. Poi dopo Satana è entrata in funzione e ha creato lo sconquasso che sappiamo. Questa è la realtà cari amici. Gesù con la sua conoscenza umana ha ben chiara fin dal momento dell'incarnazione la missione redentrice che il Padre gli ha affidato e i mezzi con i quali compierla. Egli sa che la via che deve percorrere è quella del Messia sofferente e non quella del dominatore terreno. Anche il Battista lo conferma su questa strada chiamandolo solennemente l'agnello di Dio che viene sacrificato per togliere il peccato del mondo. La gloria divina della resurrezione e la sua intronizzazione come Signore del mondo verrà dopo il Calvario e la Croce. Quindi anche la Chiesa prima il Calvario e la Croce e poi la gloria del Paradiso. Il figlio di Dio è venuto sulla terra per soffrire non per trionfare. La sua santità la sua sapienza la sua potenza di miracolo anche sotto il profilo umano erano tali da far di lui l'uomo più ammirato e più amato del mondo. Chi avrebbe potuto accusarlo di peccato? Avrebbe certamente potuto attraversare la scena della storia da dominatore ma in questo modo non avrebbe distrutto la potenza del male e redento il mondo dal peccato. Cioè Gesù Cristo all'umanamente aveva tutte le carte in regola per essere un grandissimo di questo mondo. Ma lui ha seguito la via del Padre. Il Padre ha segnato al figlio la via della persecuzione, dell'ignominia, del disprezzo, dell'ingratitudine, del tradimento. Gesù ha fatto sua con tutta la forza della sua volontà umana la volontà del Padre e ha conseguito la salvezza. E così ci ha liberato dal potere dell'inferno, del peccato e della morte. Satana ha tentato in tutti i modi di distorio di Gesù dalla via della croce. E proprio nella notte del Getsemane ha sferato il suo attacco più devastante. Quindi tutte le tentazioni di Satana nei confronti di Gesù vanno riportate al tentativo di distrarre il Messia dalla via della croce. E la medesima cosa fa con la chiesa Satana, distoglierla da seguire Cristo crocifisso. Le tentazioni che Gesù ha affrontato e respinto nel deserto avevano tutte queste finalità, cioè distrarre il Messia dalla via della croce. Satana vuole insegnare al Messia con quali mezzi trionfare nel mondo. Si propone come suo pedagogo e consigliere. Lui sa come sedure gli uomini ad ottenere il loro applauso. Nessuno sa organizzare il consenso del mondo come il diavolo. Quando si è trattato di mandare Gesù a morte aveva tutti dalla sua autorità e popolo, riuscendo a creare scompigli o persino nel collegio apostolico. Hai capito? La perfida serpe aveva tutti dalla sua parte. Un episodio del Vangelo ci rivela con quale sorezia e astuzia la perfida serpe ha tallonato il Messia nel corso della sua breve missione salvifica. Dopo lo strepitoso miracolo della moltiplicazione dei panni e dei pesci, la gente si illude che finalmente sia venuto colui che attendeva, cioè il Messia che risolve il problema del vivere. È pronta a portarlo in trionfo e a incoronarlo re, a chi è una tale potenza e spianata la via per diventare padrone del mondo. Allora la gente, dice il Vangelo di Giovanni, visto il segno che gli aveva compiuto, c'è la moltiplicazione dei panni e dei pesci, disse se moltiplici i panni e dei pesci moltiplicano anche i quaterini, no? Questo è davvero il profeta, colui che viene nel mondo. Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo. Giovanni 6,14-15. Satana in vano tende le sue insidie all'inviato del Padre, che non vacilla mai, neppure nell'estrema sfida. Quando viene invitato, ascende dalla croce. Se lui è il Cristo di Dio, l'eletto, scenda dalla croce. Ma Gesù è rimasto sulla croce. Non è caduto nella provocazione. Il mondo non può comprendere il mistero della redenzione mediante la croce. Persino i discepoli che hanno condiviso con Gesù la sua missione non riescono a entrare in questa prospettiva che ripugna la carne e il sangue. Solo la grazia dello Spirito Santo poi aprirà i loro occhi e trasformerà i loro cuori. Ecco, cari amici, adesso passiamo al punto chiave, cioè le tentazioni messianiche di Gesù toccano la Chiesa nel compimento della sua missione salvifica. Il missione di iniquità è il potere di agire fino al giudizio finale e non risparmia alla Chiesa ciò che non ha risparmiato il suo fondatore. Quindi, cari amici, ecco il concetto da tenere presente, afferratelo. Satana tenta la Chiesa nel medesimo modo con cui ha tentato Gesù. Lo scopo è di sviarla dalla via che il Maestro ha percorso, la via dell'umiltà e del servizio, del disprezzo e della persecuzione, dall'apparente sconfitta mondana e del martirio. La Chiesa ha nel suo Maestro l'esempio di come combattere e vincere, pur nella fragilità degli uomini che ne fanno parte. Quindi, cari amici, le tentazioni di Gesù sono un tesoro per la Chiesa pellegrina nel tempo. Attraverso di esse la Chiesa può scoprire le insidie dell'astuta serpe e trovarsi sempre più unita al suo Signore nella croce e nella resurrezione. E poi vedremo, cari amici, questa è l'introduzione, poi vedremo come le singole tentazioni, cioè quella del trasformare le pietre in pane, quella del facile consenso, buttati giù, tutti ti crederanno, è quella del potere della ricchezza come queste tentazioni, cioè praticamente la tentazione dello sfamare il mondo, cioè la Chiesa crocerossina del mondo, la Chiesa del facile consenso, la Chiesa delle sicurezze mondane, è la Chiesa che Satana vuole, ma non è la Chiesa di Cristo la quale otterrà la vittoria invece abbracciando la croce e vedremo appunto applicate alla Chiesa le tentazioni di Gesù Cristo.